Nel giorno dell'ottantasettesimo compleanno della Pescara Calcio, celebrato dai tifosi della curva nord con cori e bandiere sul ponte del mare, Nicolò ha squizzato il primo innesto ufficiale della campagna acquisti 2023-2024. Il 21enne Play arriva dall'Inter a titolo definitivo. A club nerazzurro il 40% sulla rivendita futura dell'ex Renate Juve Stabia che si lega al Delfino con un contratto triennale. Ma oggi Delicarri chiude anche per l'Eston e Tunjov classe 2001 appena svincolatosi dalla SPAL. La mezzala che in Cia ha giocato con la Carrarese nella stagione 2021-22 sottoscrive un triennale. Stessa cosa dicasi per Davide Merola a titolo definitivo dall'Empoli, società la quale verrà riconosciuta la percentuale del 30% sulla rivendita futura dell'esterno campano. In tema di esterni, sempre vicino all'arrivo dal Padova del 27enne Simone Russini, accordo totale con il club Veneto. C'è invece da limare qualcosa sull'ingaggio con Maurizio De Rosa, agente dell'ex Catania e Cesena. Sulla fascia destra, a Merola verrà affiancato un under. A Delicarri piace il ventenne Ciro Capasso, di proprietà della Fiorentina. Poche possibilità di ingaggio del danese del Lecce, Jeppe Korfizen, classe 2004, e per il paraguaiano Ugo Cuenca, classe 2005, di proprietà del Milan. Fronte cessioni con in evidenza i portieri. Ufficiale sommariva al Genoa, operazione a titolo definitivo. Ieri l'ex portiere del Pescara si è sottoposto alle rituali visite mediche e subito dopo ha firmato il contratto della durata di due anni. Il giovane Andrea Daniello, svincolato dallo scorso 30 giugno, è vicinissimo al Cerignola dell'ex Biancazzurro Ivan Tisci, che questa sera viene presentato dalla società pugliese.